Maria Amato, quante firme sono state raccolte per l'Emmo Dinamica Vasto? 14.480, ma qualche firma sta ancora arrivando, per cui questo è il risultato, diciamo intorno a 14.500, che credo sia il numero che poi comuniceremo come un numero ufficiale. Quali le prossime iniziative? Il 3 giugno contiamo di organizzare un'iniziativa pubblica sia per restituire alla città e al territorio i risultati di questa iniziativa, essendo questa un'iniziativa di popolo, sicuramente appoggiata da forze politiche, da associazioni, ma legata anche a iniziativa di singoli cittadini sensibili al problema della rete cuore e della patologia acuta del miocardio. E da lì ovviamente c'è il passaggio poi ufficiale, già allertato il Ministero della Salute, che ha attivato i suoi uffici per valutare quali sono le misure possibili. E poi ci aspettiamo un confronto con la Regione. Dottor Ugo, lo è soddisfatto di questa raccolta firme? Sono molto soddisfatto, il numero all'incirca che prevedevamo era intorno a 15.000, infatti abbiamo raccolto 14.700 firme. Qualche foglio in giro ce l'abbiamo ancora, quindi alla fine 15.000 forse lo superiamo pure. Due mesi fa non avevo questa speranza, devo dire obiettivamente che non ce l'avevo questa speranza. Per l'emodinamica c'è adesso una speranza in più con questa raccolta firme? Per quanto mi riguarda, io sono felice di aver fatto all'inizio il gruppo su Facebook di quelli che volevano appunto il servizio di emodinamica a Vasto. Adesso da una questione virtuale sono passato a un fatto concreto, ho mobilitato tutta la popolazione di Vasto e del Vastese, ma oltre questo passaggio per le mie competenze purtroppo non posso garantire niente, per il semplice motivo che io non sono un politico, né ho conoscenze e né niente. In questo mi auguro che faccio la sua parte, la dottoressa Amato, che lei è una parlamentare, quindi insieme a tutti gli altri politici della zona, che ci diano appunto questo risultato imprescindibile e determinante per la nostra salute. Grazie a tutti!